Poi la passione sicuramente c'è tutta, io ho una mia mamma che è una grande tifosa del Torino, quindi ho un po' preso il Torino per accontentare lei, che peraltro è una donna prudentissima, in quel caso aveva perso la testa e mi spingeva a prendere un po' e io dico ma mamma cosa ti succede? Tu che è maestra elementare, una donna assolutamente molto prudente, molto razionale, per il Toro, che lei ti fa la Toro e che ha il Torino ovviamente, per il Toro aveva perso letteralmente la testa e mi ha spinto a prendere il Toro e io sono felice che l'ho fatto, però poi qualche volta meno, poi adesso sono più, ma qualche volta meno.